amici di gossip news ben ritrovati io sono nato e questa è una nuova pillola di gossip trash matrimoni bah non lo so fate un po voi antonelli e pietro delle piane saranno presto sposi la bella showgirl ha fatto delle dichiarazioni veramente inaspettate ecco le parole della bionda che hanno scatenato opinioni contrastanti ora vi racconto nel dettaglio tutto quello che sta succedendo che è successo che succederà prima ovviamente vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un like registratevi cliccate la campanellona per ricevere tutti gli aggiornamenti attraverso alcune instagram stories antonelli ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta dopo essere stata ricoverata in clinica per un piccolo problema a salutare per fortuna risolto l'ex opinionista del gf che ve lo dico a fa ha detto delle cose inaspettate sulla sua relazione nelle scorse ore la elia ha lasciato la clinica dove è stata ricoverata qualche giorno per la revisione di una cicatrice sull'addome al suo fianco come in un'altra occasione importante sempre presente c'era il compagno lui simpaticone pietro delle piane la loro storia i loro baci focosi avevano infiammato la casa del grande fratello ve lo ricordate nell'edizione in cui lei ha partecipato come concorrente e mai tanto rossetto spalmato sulla faccia ho mai visto io in un programma tv anche se la coppia sembrava sempre essere super affiatata alcune crepe del loro rapporto che si portavano dietro già da un po di tempo sono emerse dopo la fine del reality la coppia decide così di mettere alla prova loro amore partecipando a tentation island cosa c'è di meglio di mettere alla prova l'amore di andare a tentation island il reality delle tentazioni vabbè dopo l'ultimo fallo di confronto antonella prende la decisione di lasciare pietro a causa del suo comportamento fin troppo libertino con le tentatrici ai 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 pietrino cosa mai combinatino da quel momento la coppia elia delle piane scoppia definitivamente e non sarebbe la prima volta che una coppia scoppia ma lui continua a far parlare di sé indirettamente tramite la sua ex lei inizia l'esperienza come opinionista affiancando il sempreverde al fosso signorini nell'ultima edizione del gfv ma questa roba nota a distanza di un anno i due però si sono riavvicinati e viva l'amore e hanno deciso di concedersi una seconda chance e poi antonella ha perdonato tutte le malefatte di pietro e qualche ora fa addirittura ha fatto un annuncio sconvolgente probabilmente ancora sotto l'effetto dell'anestesia perché vi ricordo che era appena uscita dalla clinica antonella avrebbe cominciato avrebbe comunicato scusate a pietro la sua intenzione di rispossarlo questo matrimonio sa da fa perché non vuole stare senza di lui nemmeno un secondo dopo vi saluto raga la showgirl si è detta follemente innamorata del suo uomo e ha affermato che non vede l'ora di trascorrere tutta la sua vita con lui ma che bella cosa nonostante infatti alcuni incompatibili nonostante infatti alcuni incompatibili nonostante alcuni inc... oggi sono più idiota del solito scusate nonostante infatti alcune incompatibilità caratteriali antonella ha affermato di non volere trascorrere la sua vecchia da sola la domanda è allora lo vuoi sposare perché lo ami o lo vuoi sposare perché hai paura di rimanere da sola poi magari se volete ne parliamo insieme pietro suo amico complice e amante perfetto mamma mia quasi come nate giusie non si è fatta attendere la risposta di lui ovviamente che ha commentato con un dolce messaggio pietro infatti ha risposto che se dovessero convolare a nozze per lui sarebbe la sua prima e unica volta perché l'amore che prova per lei è eterno e si dice sicuro che antonella sarà l'ultima donna della sua vita ma che romanticismo shur pietro shur pietro degli ultimi giorni poi l'elia cambiamo un po' il discorso ma restiamo sempre in tema è stata protagonista di un gossipone con l'amica vera gemma bella ricolata la vera gemma la fidanzata di jeda quello che non riesco a fare l'imitazione perché vabbè avete capito di chi sto parlando lascio girl biond antonella ha commentato una foto dell'ex naufraga che si mostrava super sexy super formosa affermando che quasi sembrava una quella parola che inizia con po poi c'è rno e poi star avete capito no non l'avesse mai detto non l'avesse mai detto toni fulmini sette le sue parole hanno innescato una serie di commenti di risposte negativi che hanno fatto rimanere molto male la bella antonella perché ragazzi ovviamente mai come in questi casi il popolo del web si erge a giudice perché sono tutti giudici sono tutti studiati no sono tutti super esperti mamma mia che nervoso che mi viene vabbè molti si sono infatti scagliati contro di lei e la sua lingua definita lunga e tagliente che lunga e tagliente lo sapevamo però 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 c'è un però in realtà antonella e vera gemma sono amiche da tanti anni se vogliono bene il commento della bionda elia sotto il post dell'anafraga era stato rilasciato a scopo ironico e tutti che si sono infervorati si sono indignati ma come ti permetti poi magari sono gli stessi che poi criticano vera gemma perché si sa che la gente è così no sono delle banderuole vanno in base a dove gli fa comodo vera gemma infatti ha replicato il commento dell'amica dedicandole un piccolo cuoricino rosso testimonianza del fatto che è compreso il messaggio ironico dell'elia quindi ragazzi tutto bene ciò che finisce bene che dirvi mai mai notizia positiva come questa allora antonella che si sposa compiato delle piane e soprattutto non ha litigato con vera gemma che gli ha mandato il cuoricino quindi ragazzi l'amore ormai vetta in vetta in cima a tutte le classifiche ah che bello mi sento contento perfetto ragazzi la notizia ve l'ho data a questo punto la palla aspetta a voi passiamo ai saluti ciao che avevano ci rieccomi mi piace mi piacete quando non mi abbandonate che mi seguite di diretta in diretta è un po come pollicino che lascia le le briciole vabbè avete capito perfetto ciao elisabetta ciao bella gioia ciao monica manni ciao che era vannucci ma non si erano lasciati e si si erano lasciati e anche noi sapevamo poi si erano ricongiunti al gf vi ricordate quella scena che praticamente c'era lei piena di rossetto schifo ragazzi mamma mia altro che trash quello era vabbè poi hanno rilitigato adesso si sono rimessi insieme addirittura lui ha detto che quest'estate la vuole portare in giro per la sardegna in moto vogliono fare early davison capito c'eravamo tanto amati e adesso pare che lei voglia sposare lui però la domanda ve l'ho data prima dopo ve la no prima vi saluto poi andiamo alla domanda topica perché c'è sempre in ogni gossip una domanda topica ricordatevelo mamma mia oggi oggi mi sento è aristotelico va bene alessia insopportabile di tutte e due non avevo dubbi e sono completamente d'accordo con te proprio vero che chi si somiglia si piglia quindi ma che ben vengano è detto giusto si somigliano si pigliano quindi che si sposassero almeno non combinano altri danni non si combinano in famiglia ma se si erano gli avvicinati un anno fa live non ad us una scensore perché l'ascensore dell'amore no mamma è la d'urso e ne inventa l'ascensore dell'amore raga tanta tanta roba si sono contenti loro che ben venga dice elisabetta e sono d'accordissimo anche con te antonella gli piace la pasta riscaldata beh vabbè anche perché ragazzi posso farvi una battuta un po cattivella posso o meglio di no no ve la faccio dove lo trovo un altro dove lo trovo dove lo trovo un altro antonella una certa lui ha una certa tutto rispetto ma ragazzi ormai vi conoscete vi siete frequentati sapete i vostri difetti sapete i vostri pregi quindi dai veniamoci un po incontro smussiamo questi angolini spigolosi del nostro carattere e vi ricordo che non è detto che l'antonella elia nella vita privata sia come noi la vediamo quando ha fatto l'opinionista al gf o quando ha fatto proprio il gf non è detto non è detto magari una donna dolce non possiamo sapere vi ricordo sempre che noi qui giudichiamo il personaggio non giudichiamo la persona perché la persona non possiamo non abbiamo elementi per dire sei bravo non sei bravo e no bisognerebbe passarci un mesetto insieme versi un paio di birra insieme e poi magari valutiamo forse forse perfetto monica mi sta venendo il diabete addirittura tutta questa dolcezza tutto questo amore guarda che ti faccio vedere la gemma è per fartelo togliere il diabete c'è un attimo penso che lei lo ama veramente rita cagli è ma lo penso anch'io nonostante non sia un grande estimatore nella delalia né di delle piane però anch'io penso che sia quegli amori un po come si dice amore odio no però alla fine io penso che un po un po che poi se è vero amore non lo so o se affetto se come dicevo prima voglia magari di restare da soli ragazzi quante coppie ci sono le conoscerete sicuramente qualcuno anche voi che stanno insieme perché non hanno hanno paura di rimanere da soli e io ve l'ho sempre detto no la prima cosa da imparare per avere un rapporto felice duraturo a imparare stare da soli quando quando stai bene con te stesso ragazzi puoi star bene con chiunque ma è tutto come da copione si non mi non mi meraviglierei se non avete in tensione la norma è già stato definito e però magari la sta studiando qualcosa del genere non lo so non lo so espo official italy ma veramente ma veramente certo che veramente espo l'ha detto lei l'ha detto lei poi se sono palline ziguli e antonella che dice le palline comunque lei ha detto lo volte voglio spossa e lui ha detto questo matrimonio sa da fa a da vinci lui arrogante cattivo l'ha fatto a pezzi quella trasmissione canale 5 lei sempre tanto intelligente bene a me non piacciono proprio assolutamente io rispetto la tua volontà magari cerchiamo di non dare di non usare insulti così gratuiti anche se io la penso come te però diciamo che chiamiamoli ingenui sciocchini da una roba del genere c'era e nazi allegro oggi perché di solito non lo sono di solito ragazzi oggi c'è il gossip eh ragazzi caravale io sono allegro tutti i giorni perché la vita è bella bisogna godersela però vi assicuro che anch'io c'ho le mie gatte da pelare come tutti noi del resto sia chiaro però ovviamente sono in live con voi e mi sembra giusto il mio intento è portare il buon umore non sempre ce la faccio a volte ce la faccio quando ce la faccio sono contento quando non ce la faccio sono contento lo stesso perfetto cioè io boh beh mi piacciono i tuoi commenti mono mono sillabi sillabi c espo eh sì cioè io boh è in effetti ma ci sta il tuo commento perché cosa vuoi dire alla fine cioè io boh dovrei fare una canzone cioè io boh me la devo segnare dopo eh zia giussi che ti ha fatto mangiare si allegro no oggi mi ha fatto una semplice semplice che poi le cose vabbè non ve lo dico non ve lo dico stasera ciao luigi maiello ciao bello ciao zanzi hola cico la coppia più bella siete voi nata giù e poi almeno non facciamo come pietro le piane quella che si lasciano si mollano si lasciano si mollano eh no no ragazzi un po' di coerenza comunque grazie elisabetta sono bellissimi i tuoi commenti e mi fanno venire il diabete anche a me da tutta questa dolcezza ma io sono contento ragazzi sono contento monica manni no nata la notte mi sogno i mutandoni nella gemma aiuto alessia alessia fermi che dopo una queste cose la faccio sempre nell'ultima live quando so che posso dilungarmi di più con voi e non ho problemi adesso per il momento vi risparmio i mutandoni di gemma ma solo non è detto non è detto non è detto c'è una buona salata di zia giussi che ti ha fatto mangiare la pasta pasta con quei sughetti che si inventa lei tanta roba tanta roba allora luigi allenotti ci ha nati giusti una bacia buona serata alessia alessia monica stavolta ha fatto tutto nato da solo io non centro con gemmona hai ragione per una volta alessia non c'entra non mi hai stigato non mi hai stigato quindi è vero è vero mia colpa mia colpa mia colpa però un po' l'influenza dell'alessia c'è perché adesso ormai basta che io vedo il tuo nickname io leggo alessia alessia e mi viene in mente gemma gemma e non lo so mi viene in mente i mutandoni di gemma non so perché anna contù per sopportarla ci vogliono quattro palos auguri a lui che dio gliela mandi non dico buona beh anche sopportare lui non mi sembra uno stinco di santo è ma tanta pazienza non capisco pare che lui non trovi un'altra per me non finisce bene sono troppo diversi ah tu dici che l'epilogo di tutta questa cosa qua sarà un disastro e potresti avere ragione anna e che dire chi vivrà vedrà ciao federica tauro ciao bellissima bravo nato un po di allegria assolutamente anche perché se volete canali tristi ce ne sono e basta cercare se ce ne sono vale allegro pippante è la seconda volta che mi dicono che sono pippante non vi dico che cosa mi fa venire in mente va bene monica mani io mi dissocio da cosa certo che ho mangiato le ciambelle no 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 scusami non le ho mangiate perché sono arrivate oggi le mangerò domani mattina per colazione assolutamente ciambelle con la crema dentro alessia no che bruttonata ad essere associato a gemma no ma no 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 adesso mi fa venire il senso di colpa no ogni volta che vedo il turning non è che penso a gemma mi viene in mente te quando mi istighi per far vedere il video di gemmona quei mutandoni non mi permetterei mai cara alessia di associarti alla gemmona ma alla gemmona non associerei nessuno proprio nessuno quindi giusi fermano ti prego perché perché mi devo fermare comunque adesso mi fermo perché la devo chiudere perché dopo un altro gossip da darvi è claro ok tutto posto alessia e lo sai che ti voglio bene come potrei mai associarti a quella avete capito perfetto coppia che scoppia presto secondo me dice che davano c'è ragazzi staremo a vedere in ogni caso quando ci saranno news quando ci saranno aggiornamenti quando ci saranno novità io ragazzi sarò qui come duopo davanti a questa bella telecamera a raccontarvi per filo e per segno quello che sta succedendo nel mondo del gossip e non solo allora prima di chiudere ovviamente vi devo ricordare perché magari c'è qualcuno che non c'era una vecchia diretta che questa sera alle 8 8 in punto ora italiana nel canale di coppia andate giusi trovate il link in descrizione faremo una diretta straordinaria per parlarvi degli aggiornamenti del caso denis pipitone siete tutti invitati portate i pop corn portate le caramelle portate anche uno sprizzino già che ci siamo così vi daremo vi diremo le ultime news e poi ovviamente come duopo sto dicendo duopo troppe volte oggi e vabbè come al solito ne parleremo insieme detto questo vi auguro un buon proseguimento mi raccomando non scappate perché tra 5 4 3 3 minuti e mezzo al massimo sarò qui fermi 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 è arrivato uno oh signor oh sì no ragazzi non vi dico niente se sarete online nella prossima live ovvero tra 3 4 minuti c'è una novità c'è una novità che non è stato zitto mannaggia va bene va bene e quindi adesso chiudo ma ci vediamo dopo se volete ovviamente vi do un bacione e ci vediamo più tardi ciao belli ciao 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 ciao